È proprio un quadro frutto del Covid e quindi di tutta quest'ansia, di questa chiusura, di questa paura della segregazione nostra ha portato me, invece che incupirmi e scurire tutti i colori, a fare l'esatto contrario. Quindi qui c'è luce, libertà, dinamismo, si distruggono tutte le linee, non c'è più prospettiva, c'è solo colore e fulore. Libertà! Così un'artista retina, Alessandra Pasqualotti, ha interpretato con una sua opera il periodo di lockdown, un periodo in cui ovviamente tutti gli artisti sono dovuti rimanere fermi e il mondo dell'arte è stato purtroppo soltanto virtuale. Proprio lei, assieme a tanti altri artisti, è stata coinvolta nel progetto Coronarte del critico d'arte Andrea Speziali. Attraverso le dirette Instagram l'arte è dunque riuscita a vivere. Purtroppo siamo stati rinchiusi, il mondo dell'arte ha sofferto tantissimo come tutto il settore, tutti i settori hanno sofferto tantissimo e io in qualità di artista ho proprio subito questo senso di occlusione nel non poter neanche far niente di azione. Ho cercato una cura che poi per ogni artista è la propria cura dell'anima e dello spirito, quindi mettere le proprie sensazioni su tela. E da qui nasce furore. C'era solo paura, c'era solo buio, io ho avuto bisogno di luce, di dinamismo e di libertà. Ecco, il mondo dell'arte è stato il grande dimenticato in questo periodo perché effettivamente i musei ovviamente erano chiusi, adesso cercheremo di capire come riapriranno ma ci sarà comunque il contingentamento degli ingressi e quindi anche gli artisti contemporanei faranno più fatica comunque a farsi conoscere, a fare in modo che comunque l'arte esca dalla stanza dove siamo adesso. Nel tuo caso però c'è già una parte di online, insomma un sito che tu hai creato e che ti consente quantomeno di uscire da questa stanza. Sì, mi consente di uscire perché fortunatamente ci viene incontro la tecnologia che usata in maniera giusta dà la possibilità ai giovani artisti di proporsi a un pubblico più ampio. Quindi l'uso di internet, il far girare immagini dei propri lavori crea notorietà, crea interesse e questo è un sistema, una forma di tecnologia verso cui io spero che l'arte andrà sempre di più. In questo periodo in particolar modo dove non si può oggettivamente andare a mirare l'opera si usa il social per vedere quello che ci è precluso. Quindi c'è stato un totale stravolgimento del mondo di vivere l'arte che prima era un po' polveroso, un po' chiuso, un po' elitario. Adesso con questo boom dei social tutti si sono dati una velocità diversa, un dinamismo. C'è stato un esploade l'arte un po' più alla portata di tutti. Se questo periodo ci ha insegnato qualcosa, che cosa dovrebbe lasciarci rispetto alla valorizzazione di artisti come tema? Ce ne sono ovviamente anche tanti altri in Italia, però nel nostro paese si fa un po' fatica a valorizzare questo tipo di... È un dramma anche dire che si fa un po' fatica perché io sono aretina, sono toscana, sono italiana, sono nata in un paese dove l'arte non è un accessorio ma l'arte ha una parte fondamentale. Pensate se non ci fossero state in passati persone mecenate che avessero investito anche in maniera in denaro in artisti commissionandolo delle opere, noi viaggeremo nel nostro caso in un Arezzo scevra e priva di dipinti, affreschi, madonne, statue, colonne, architettura. Noi passeggeremo in mezzo a dei cubi di pietra, cioè tutta la vita sarebbe impoverita e triste e cupa. Mentre invece noi attualmente campiamo di gloria, come si suor dire, quindi abbiamo ereditato tutte queste cose del passato ma questo è il momento di agire. Non possiamo sempre vivere di rendita ma questo Covid secondo me dovrebbe dare il giusto impulso, come diceva il critico Andiera Speziali, di creare un nuovo movimento più energico e più dinamico per far ritornare l'arte italiana conosciuta, apprezzata, ammirata nel mondo. Noi siamo la patria che ha dato i Natali, non sto a fare il professor Sgarbi citando i nostri famosissimi artisti del passato, parliamo del futuro, guardiamoci avanti, facciamoci conoscere per questo, non solo gli stilisti, la moda, ma l'arte, che comunque sia anche i stilisti, la moda, il design, prendono dall'arte. Quindi ragazzi diamoci da fare, cioè facciamoci valere, sempre.